buonasera benvenuti grazie di essere intervenuti grazie ai moltissimi che ci stanno seguendo da remoto compresi due dei relatori che ringrazio in particolare per aver accettato di fungere appunto da relatori da svolgere degli interventi c'è un nutritissimo gruppo di studenti dell'università di teramo che sta seguendo questa presentazione per la qualcosa devo ringraziare in maniera particolare l'amico e collega bernardo cardinale che ha organizzato appunto la loro presenza poi più tardi darò delle istruzioni tecniche a questi studenti per ottenere la certificazione di cui faranno uso nell'ambito del loro corso di studio oggi abbiamo un'occasione un evento un po particolare un po inusuale non fosse altro perché si presenterà si discuterà di tre distinti libri anche abbastanza differenti direi decisamente differenti tra di loro ma accomunati tutti e tre dal termine comune di geopolitica dall'interesse per la geopolitica intesa in maniera abbastanza omogenea in fin dei conti nei tre nei tre percorsi però applicata a temi e modi diciamo così di analisi sicuramente differenti avete tutti immagino visto il programma se no non sareste qui quindi inutile che mi stia a ripetere diciamo così i titoli dei volumi e dal momento che si tratta di tre testi e che perciò immagino che gli interventi saranno relativamente lunghi e per evitare di uscire con il buio e con la villa chiusa io inviterei immediatamente il collega amico luca muscarà a prendere posto qui accanto a me e a dare inizio a questa presentazione discussione vedremo poi come come procederà noi di massima come saprete perché probabilmente avete già seguito altre occasioni di questo genere di massima svolgiamo queste presentazioni più o meno critiche diciamo delle recensioni orali che tendono a discutere quindi contenuti dei testi dopodiché se c'è tempo e se ce n'è ovviamente la necessità si lascia la parola al pubblico e per eventuali domande agli autori o ai relatori in seconda dei casi e così procederemo anche oggi e poi comunque vedremo anche come va insomma può darsi che non ci siano sollecitazioni tali da richiedere una discussione collettiva vedremo sempre in maniera piuttosto libera e diciamo anche informale in modo che non nessuno si senta bloccato vincolato e dica quello che ritieni di dover dire la comunicazione tecnica per gli studenti terramani cortesemente dovreste perché questa è la modalità per fare la verifica della vostra presenza ambasciatore buonasera e dovreste indica scrivere nella chat ciascuno di voi presenti nome cognome o cognome nome se preferite il numero di matricola adesso grazie a questo punto passo subito la parola al professor lungo muscara ringraziandolo ringraziandolo ancora una volta per la cortesia e la disponibilità prego grazie e claudio ringrazio la società geografica gli organizzatori di questo incontro a cui ho aderito ben volentieri proprio per la centralità dell'argomento geopolitica in questo specifico momento storico in cui ci troviamo con una guerra in corso in europa e dunque ritengo che come geografi e come geografi politici non possiamo esimerci quantomeno non dico solo dal prendere posizione ma anche dal interrogarci sulla relazione tra gli strumenti con cui analizziamo quanto avviene e il il conflitto in corso dunque se diciamo due anni fa fino a due anni fa c'era una centralità anche mediatica che verteva sul contributo dei virologi e degli epidemiologi ecco con la guerra in ucraina di colpo i geografi politici e geopolitici si trovano sotto i riflettori dunque è più che mai opportuno un'iniziativa del genere a partire dal fatto che abbiamo almeno tre libri che vertono su questo argomento sia pure di autori differenti per approcci per generazioni e anche per il taglio che poi hanno voluto eh dedicare al ai singoli voluti allora eh scusate il dottor cerreti mi scusi eh abbiamo sono il rappresentante degli studenti buonasera salvatore e stiamo riscontrando stiamo riscontrando un problema con la chat non è possibile eh per i membri per gli studenti accedere alla chat della chiamata quindi proviamo a risolvere grazie della grazie della della segnalazione ora proviamo a risolvere grazie va bene quindi eh se considerate che eh i tre volumi in questione eh sviluppano mh complessivamente circa 1200 pagine eh potete immaginare che nei venti minuti che ho a disposizione potrò entrare nel merito di ciascuno eh solo piuttosto eh limitatamente o meglio per sommi capi ecco però ehm e quindi tenterò di ehm ehm ricavarne quelli che eh a mio avviso eh sono alcuni dei nodi e degli spunti più eh utili da sviluppare eh sperando anche che eh questo incontro e questo dibattito anche in considerazione del gruppo Agei sulla geopolitica eh che si è costituito eh proprio in reazione alla guerra in Ucraina eh possa essere un momento di un percorso che prosegue. Ecco e eh inizierò dal volume del professor Lizza che eh ho incontrato ormai quasi trent'anni fa eh quando eh ero uno studente del dottorato di geografia politica di di Trieste e eh e il professor Lizza invece era appunto un professore eh in in cattedra alla Sapienza. Ecco questo volume si intitola Orizzonti della nuova geopolitica eh in realtà ha un taglio molto preciso all'interno diciamo di un orizzonte eh che è naturalmente vastissimo. Eh e il taglio che eh professor Lizza ha scelto è quello di focalizzare su un aspetto che a mio avviso è giustamente centrale per le nostre riflessioni soprattutto diciamo negli ultimi sei sette anni eh ovvero il tema del ruolo che i media e non solo i media tradizionali mass media eccetera ma soprattutto con l'avvento dei social media eh la comunicazione ha preso eh rispetto anche alla geografia politica e alla geopolitica. Dunque l'abbiamo visto prima con il Brexit poi con l'elezione di Trump e continuiamo a vedere anche l'abbiamo visto molto bene anche durante la pandemia come le fake news eh rappresentino un elemento ormai costitutivo purtroppo dell'orizzonte in cui ci troviamo eh a muoverci. E dunque eh trovo che la scelta di questo tema ehm ovvero della eh geografia politica dei media e del ruolo che i media hanno per la geografia politica sia quanto mai eh attuale. Eh tanto più che se diciamo eh durante le campagne elettorali il referendum per il Brexit le presidenziali americane eccetera abbiamo visto questo uso spregiudicato eh da parte di Trump eh abbiamo poi letto degli scandali di Cambridge Analytica anche in relazione al Brexit dunque questo uso spregiudicato delle false notizie con la guerra in Ucraina ci troviamo a gioco forza a confrontarci con il tema della propaganda eh che naturalmente eh è presente inevitabilmente da un lato e dall'altro del del conflitto. Ecco dunque ehm personalmente ho trovato utile una riflessione geopolitica in in incentrata diciamo su questa dimensione eh attualissima e devo dire anche che eh il volume che si legge scorrevolmente ehm offre un utilissimo compendio di contributi di attualità degli ultimi anni eh che magari eh più o meno tutti avevamo in parte visto ma anche con molti contributi che magari possono essere anche sfuggiti e dunque riuniti in una logica sistematica eh come all'interno di questo volume eh offrono un uno strumento eh anche proprio per ricapitolare eh tanti aspetti e tante notizie che poi normalmente eh rischiano di ehm essere travolte dalla marea di informazione di cui da cui siamo investiti continuamente. Ecco eh devo dire che dunque eh sebbene appunto eh per ragioni di eh di cronologia non vi è specificamente affrontato il tema della guerra in Ucraina in realtà eh è tutto un percorso che ci porta eh utilmente anche eh sia pure in modo implicito a confrontarci con questa guerra. Devo dire poi che uno dei capitoli che a me è piaciuto maggiormente e che ho trovato anche più utile eh è proprio quello dedicato al commercio delle armi e al bilancio militare degli stati. Ecco questo è certamente un nodo inaggirabile della geopolitica contemporanea e bene ha fatto il professor Lizza a sviluppare e a sviluppare e a dedicarvi un intero capitolo. Eh devo anche dire che se posso eh esprimere oltre che un plauso anche una critica eh ho mi sono trovato più in difficoltà ma inevitabilmente con l'interpretazione proiettata verso il futuro. Ecco naturalmente eh se vi è una grande domanda di risposte rispetto all'incertezza per il futuro che inevitabilmente caratterizza ci caratterizza dopo tutte le crisi di questi ultimi anni e in cui siamo di fatto eh ancora immersi. Lo sforzo di interpretare il futuro evidentemente eh è una una sollecitazione comprensibile ma è anche una difficoltà enorme eh perché vediamo che eh continuamente ogni anno eh ci dobbiamo confrontare con eventi che ci dovrebbero costringere a riscrivere tutti i libri fisiopolitica eh sostanzialmente. Eh sostanzialmente ecco quindi è una situazione abbastanza infernale per gli studiosi quella in cui siamo calati rispetto al nostro oggetto di studio. Dunque io ho amato molto i riferimenti anche alla letteratura di fantascienza a Orwell e a Aldous Huxley e in qualche modo mi sono chiesto se da questo tipo eh di riflessioni orientate verso il futuro eh non sia possibile cogliere o sviluppare meglio eh anche una vena narrativa orientata diciamo alla geopolitica del futuro perché eh la geopolitica e la geografia in generale eh nel corso del novecento e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale ha vissuto moltissimo il eh il problema del dotarsi di uno statuto scientifico. Nel momento in cui la fisica con la seconda guerra mondiale è ha avuto i successi che ha avuto e dunque ha ottenuto questi riconoscimenti eh i geografi si sono eh attrezzati per eh ricercare una propria patente di scientificità rispetto anche alle scienze dure. Ecco però nel fare questo come già Maurice Lellanoux denunciava nel 1961 la geografia ha perso una dimensione che era quella che aveva in origine se si va anche a leggere McKinder eh ovvero quella di essere anche un'arte e non solo una scienza. Ecco e dunque nel libro di inizio io ho colto anche una vena narrativa che mi ha fatto pensare che forse potrebbe essere utilmente eh sviluppata proprio per ritrovare eh questa antica anima che eh che la che la geografia aveva non solo in quanto scienza ma anche in quanto arte dato che entrambe sono due forme eh legittime e forse anche necessarie della conoscenza eh del mondo. Mi fermo qui perché eh naturalmente abbiamo degli altri libri di cui parlare eh però spero di avervi dato diciamo un contributo ecco a interessarvi di questo libro che ho trovato eh molto utile. Il secondo libro di cui voglio parlare eh è quello invece eh dei colleghi eh eh Matteo Marconi e Paolo Sellari ovvero la eh geopolitica degli spazi eh marittimi. Come giustamente eh eh dicevamo poco prima di di iniziare di iniziare questo incontro con Claudio ecco questo libro certamente va a coprire un buco eh tematico che eh si era venuto a creare quantomeno eh dopo la morte di Alberto Vallega. Ecco e dunque eh è certamente un volume che eh di cui si sentiva eh il bisogno. Eh naturalmente la geografia politica, la geopolitica hanno tutta una tradizione nel analizzare ai rapporti di forza, di potere eh sia rispetto alla dimensione marittima che a quella terrestre continentale. Quindi eh siamo perfettamente nel solco di una lunga e antica eh tradizione ultra eh centenaria. Ecco però eh oggettivamente va riscontrato che questa dimensione marittima per un paese come il nostro. Ecco, dotato di migliaia e migliaia di chilometri di coste e anche di una certa tradizione, lo dico da veneziano eh in ambito marittimo eh ecco questa lacuna eh si iniziava a sentire e dunque si tratta assolutamente di un eh volume che è eh più che benvenuto ma anzi che viene a colmare un gap che eh forse anche generazionale che si era creato eh dopo la morte di Vallega. Ecco, il il testo è assolutamente molto utile eh e eh presenta una certa eterogeneità sia per quanto riguarda gli autori, sia per quanto riguarda le prospettive e gli approcci sia per quanto riguarda i temi ai quali ciascuno dei capitoli eh è dedicato. E naturalmente dunque possiamo dire che è un volume utile per orientarsi sul tema del rapporto tra eh geopolitica e spazio eh marittimo. E dunque eh il mio giudizio su questo volume è estremamente positivo. Ecco, naturalmente è chiaro che in un volume a più firme dove abbiamo uno o più autori che eh hanno eh preso in carico la stesura dei diversi capitoli è anche inevitabile che vi siano dei gap cioè si creano in qualche modo eh dei piccoli buchi tra un tra alcuni dei capitoli e altri eh che naturalmente non eh possono essere evitati quando si lavora con una squadra di autori diversi anziché con un un unico autore o una copia di di autori. Eh il libro si apre con un primo saggio eh di Stefano Soriani che copre eh una serie di temi di grande attualità eh in qualche modo dal grabbing al gli impatti sull'industria della pesca fino al cambiamento climatico e devo dire che forse mh se devo eh formulare una critica ecco mi sarei atteso qualche elemento in più qualche eh di forse anche un capitolo in più proprio dedicato alla dimensione ambientale e climatica eh naturalmente qui noi non siamo geografi fisici però sappiamo bene il contributo che eh gli oceani hanno per il clima terrestre e eh sappiamo anche quante risorse sono state investite a partire eh dagli anni settanta dagli Stati Uniti e poi non solo proprio sullo studio del climate change e anche in particolare sullo studio del contributo degli oceani al riscaldamento globale sia studiati da soli sia studiati nelle loro interazioni con l'atmosfera ecco e dunque sebbene diciamo il rapporto con la geopolitica sia eh a mio avviso esistente ma forse meno diretto eh mi sarei atteso ecco un po' più di eh attenzione eh a questa a questa dimensione ecco che peraltro Soriani copre ma in parte ecco forse gli avrei dato più più spazio eh il secondo saggio è un saggio di Edoardo Boria Elena Dell'Agnese che verte invece sulle narrazioni sia storico-scientifiche sia letterarie e cinematografiche ecco quindi forse in questo senso ecco vediamo un altro tentativo di ricongiungersi con la dimensione non solo scientifica ma anche dell'arte tucu bellissimo il terzo capitolo di Paolo Sellari dedicato ai traffici marittimi alla portualità all'evoluzione delle navi il fenomeno del gigantismo navale eccetera è un saggio molto ben costruito ed equilibrato e forse eh è uno dei migliori esempi di saggio proprio geografico eh potremmo dire a me è piaciuto molto così come mi è piaciuto il quarto capitolo di Matteo Marconi che verte sul Mediterraneo sia pur inteso in senso allargato eh e che mette in luce come la prospettiva geopolitica e strategico militare italiana sul Mediterraneo eh sia stata presente in varie fasi storiche ma sia stata anche spesso eh abbandonata ehm il saggio eh di Marconi eh ha anche degli utilissimi utilissimi spunti storici perché ovviamente parlando del Mediterraneo è piuttosto difficile aggirare Fernand Brodel eh e eh il e il suo eh il suo lavoro ecco e eh e trovo che eh poi utilmente Matteo ha sottolineato anche la dimensione simbolica ecco di questo mare ecco che per un paese come il nostro eh per la posizione che eh occupa eh l'Italia al centro del Mediterraneo eh evidentemente ha un simbolismo che sappiamo bene essere stato anche utilizzato in altre in altre epoche ecco interessante il quinto capitolo dell'amiraglio Caprio su Egeo e Mediterraneo orientale e Cipro eh una storica contemporanea poi Macangi eh ha scritto il sesto sul grande gioco del Mediterraneo orientale eh che tocca le proiezioni terrestri sul fondo del mare i gasdotti eccetera eh un twist alla narrazione è dato dal capitolo sulla pirateria eh e l'islami la connessione con l'islamismo sappiamo bene che eh nel golfo di Aden eh eh a largo delle coste Somale e dello Yemen questo è un fenomeno che va avanti eh da una ventina d'anni e che in parte è connesso al fallimento dello stato Somalo e alla crisi Yemenita successiva sì eh poi vi è un contributo di un sociologo acks d'inguster e eh sull'oceano indiano eh i suoi chokepoints eh che arriva fino al tema dei rapporti tra Cina e Stati Uniti la questione della trappola di Tuscidile eccetera eh e poi abbiamo un altro ammiraglio il decimo capitolo è l'ammiraglio San Felice di Monteforte che parla della geostrategia dello stretto di Malacca, che radica il suo studio nella storia dell'esplorazione geografica. Il decimo capitolo invece è di un giurista dell'Unione Europea, battaglia e tratta del regime giuridico dell'Antartide, un altro argomento di grande attualità proprio alla luce del riscaldamento globale, e l'undicesimo è di un rappresentante della Confit Armatori Sisto sul futuro marittimo dell'Italia. Ecco, anche questo è un contributo diciamo meno teorico e più operativo, come poteva essere da un addetto ai lavori che si muove proprio sul terreno, per quanto si tratti di un terreno liquido, e dunque poi il volume si chiude con una postfazione di Zampieri sull'opera dell'ammiraglio Fioravanzo, un volume del 36, le basi navali nel mondo, che dà un contributo diciamo di tipo legato alla geografia militare. Ecco, chiaramente nella varietà dei temi affrontati, come ho detto, qualche buco era ineritabile. Mi chiedo se quando si costruiscono opere di questo tipo a più autori, i curatori non possano in qualche modo creare magari delle mezze pagine per fare il trait d'union tra un saggio e l'altro. Ecco, questo potrebbe aiutare talvolta, ma comunque il libro si legge volentieri. Ecco, certamente, chi vuole orientarsi sul tema della geopolitica del mare, ma anche chi invece qualcosa ha già letto e però vuole evolvere le proprie conoscenze, troverà utile la lettura del volume. Certo, si può immaginare che un'opera successiva possa giungere a essere più coesa, ecco, tra le diverse parti, almeno come inquadramento proprio a favore di una geopolitica marittima. E se io, questo è un mio giudizio, diciamo, personale, se io dovessi aggiungere un altro elemento, svilupperei ulteriormente, oltre alla parte ambientale, anche la questione dell'elemento simbolico nel rapporto con il mare. E veniamo dunque a Boria e Marconi, il terzo volume, che è un volume che evidentemente gli autori temevano passasse inosservato nella marea delle pubblicazioni, ecco, perché è un volume che sviluppa 800 pagine, tra l'altro stampato su una bellissima carta di un certo spessore, diciamo che non è esattamente un tascabile, ecco. Ma questo è certamente un volume che uno può tenere sul proprio leggio e io per la verità, pur avendo entrambe le possibilità, ho finito per leggerlo dal PDF, perché è più acevole da maneggiare, soprattutto quando uno deve saltare a verificare una voce bibliografica da un capitolo al fondo del volume, c'è un suo peso, ecco. Però, diciamo, non è certo, se questo, diciamo, è l'aspetto più immediatamente evidente, geopolitica dal pensiero all'azione, spazio e politica in età contemporanea, è un volume che a me è piaciuto e devo dire mi è piaciuto per la sua grande ricchezza di contributi, se non ho calcolato male, dovrebbero essere 37 più i due saggi conclusivi dei due curatori, quindi siamo a ben 39 capitoli, il volume è suddiviso in tre parti principali, più o meno dello stesso peso, la prima si intitola concepire e organizzare l'egemonia mondiale, la seconda ideare e agire l'alternativa, ma in questo caso alternativa sotto intende egemonica, e la terza parte è pensare a organizzare il proprio spazio nel mondo. Ecco, e dunque la prospettiva che include il punto di vista dell'attore. Allora, le ragioni per cui il volume, secondo me, merita più di un'attenzione passeggera sono sostanzialmente tre. La prima è che è un volume costruito, se vogliamo, liberandosi da una certa gabbia che la storia della geografia politica e della geopolitica ha in qualche modo subito e vissuto nel passato, in quanto non solo troviamo presenti i principali autori e le principali teorie della geografia politica, ma soprattutto queste voci, diciamo, che appartengono all'approccio tradizionale, sono integrate con una molteplicità e una varietà di altre voci e teorie e autori che provengono dall'esterno della tradizione geografica. Ecco, questo io l'ho trovato una delle grandi qualità di questo volume. Primo perché sappiamo bene che storicamente, se ci rivolgiamo alla geografia politica classica, quindi quella fino al 45, avevamo una situazione in cui il contributo scientifico era strettamente integrato con lo Stato e la sua politica. Ecco, ma dopo il 45 abbiamo una scissione, evidentemente, e dunque questo fa sì che molto spesso i geografi, i geografi politici in particolare, divengano una sorta di voce critica rispetto alla geografia dello Stato o alla politica estera dei diversi stati. Ecco, ma questa politica estera comunque è messa a punto da qualcuno, ecco che magari non è un geografo o non proviene da una formazione geografica, ecco, ma nel formulare o nel contribuire, diciamo, alla politica estera degli Stati Uniti, per citare un paese non esattamente marginale, ecco, poi di fatto fa geopolitica. E dunque non vero perché i geografi non debbano ricorrere all'analisi di questo tipo di contributi. Ecco, quindi in questo senso, secondo me, il volume di Boria e Marconi in qualche modo segna un punto, cioè immagino che dopo questo volume non sarà più possibile scrivere storie della geografia politica, della geopolitica, prescindendo dal contributo di Schmitt piuttosto che da quello di Kissinger. Adesso parliamo di epoche leggermente diverse, ma è solo per fare, per citare due capitoli che mi sono particolarmente piaciuti. Ecco, ma non sono certamente gli unici, perché poi nella varietà di voci e di autori considerati, per esempio, un grande spazio è dato anche a tutto il filone del eurasismo, così come è invece al tema, diciamo, di una geopolitica all'interno del mondo arabo, che è stata di una grande attualità per gli ultimi due decenni almeno. E dunque assolutamente meritevoli gli autori per questo sforzo e anche coraggio, in qualche modo possiamo dire, di rompere delle consuetudini, includendo autori che non sono dei geografi, ma il cui contributo è geopolitico. L'altro aspetto che mi è particolarmente piaciuto del volume, in qualche modo risente dell'aspetto precedente, perché tutta la prima parte, che consta ai 12 capitoli, si apre con McKinder e la sua teoria della Heartland, ben nota, e poi si sviluppa intorno alla geopolitica e ai contributi di tipo geopolitico degli Stati Uniti. Dunque, infatti, non a caso la prima parte è intitolata a concepire e organizzare l'egemonia globale e provo quanto mai opportuno, dunque, il peso che gli autori e curatori hanno scelto di dare, ovviamente, a questa concezione e organizzazione dell'egemonia americana, che peraltro è un tema di attualità strettissima, visto che, come sappiamo, gli Stati Uniti hanno una posizione molto precisa nella guerra in atto. E, se vogliamo prendere anche un filo di distanza, possiamo dire che dopo il crollo dell'ordine bipolare della guerra fredda, il mondo si è trovato a partire dagli Stati Uniti. Ma non solo, ci siamo trovati a confrontarci prima con il tema del momento unipolare, per cui era rimasta una sola superpotenza, e poi con l'emergere del multipolarismo. Ecco, sono passati trent'anni dalla fine dell'Unione Sovietica, anche qualcosa in più, e, però, da questa transizione ancora non siamo usciti. Anzi, probabilmente, almeno una delle chiavi di lettura del conflitto in atto è certamente quella di situarlo all'interno di questa transizione generale che parte con la fine. Però, a questo punto, uno potrebbe dire, ma è mai finita la guerra fredda? Effettivamente, ecco, perché noi abbiamo creduto per trent'anni che, infatti, scrivevamo che negli ultimi decenni chiamavamo questo periodo il post-guerra fredda, ma adesso ci cominciano i dubbi che questa guerra fredda sia effettivamente conclusa, sono diventati anche più solidi. Ecco, e dunque, per me, ecco, è un ottimo contributo quello di dedicare un'intera parte del volume, e la prima, alla centralità della geopolitica degli Stati Uniti e degli Stati Uniti nella loro prospettiva geopolitica. Ecco, non posso chiudere senza sollevare anche qualche critica, evidentemente, e per il tipo di prospettiva che io sono andato sviluppando su questi argomenti, sebbene con molta astuzia gli autori, subito dopo l'indice, prevengano il lettore dicendo che questo non è un libro di storia, e poi, inevitabilmente, passando dal periodo della geopolitica classica, o quello che Agnew chiama il canone storico, che va fino al 1945, alla guerra fredda, al dopo guerra fredda, fino all'attualità più recente, è chiaro che è un libro che ha molto a che fare con la storia, anche se ha scelto di non seguire dei fili storici nella giusta posizione dei contributi, o almeno in alcuni casi vi sono, ma in altri no. Ci sono anche dei salti tra i vari capitoli sul piano storico. Questo è qualcosa, io sono profondamente convinto che storia e geografia siano strettamente collegate, e dunque ne ho risentito. Però ciò non toglie che abbia trovato degli utilissimi contributi, anche in chiave storica, nonostante questo non sia un libro di storia dei vari capitoli, però ovviamente ognuno di noi, se dovesse scrivere una cosa del genere, dovrebbe essere scritte in un altro modo. Ecco, ma questo è un po' inevitabile. Però, ecco, siccome poi nel saggio conclusivo c'è addirittura una rivendicazione secondo cui non solo si invoca la sincronia rispetto alla diacronia, ma addirittura si invoca la simultaneità e le connessioni come chiave interpretativa rispetto a quello che Edoardo chiama la successione, ecco, io su questo ho qualche perplessità, perché per me invece diacronia e sincronia sono due momenti inaggirabili, e per giunta non vedo la storia semplicemente come un fatto di successione. Ecco, ma ci sono delle genealogie e è chiaro che se noi dobbiamo confrontarci con la globalizzazione, affrontiamo il tema della globalizzazione, non possiamo non rintracciare all'interno dell'economia, della proiezione dell'economia politica degli Stati Uniti sul resto del mondo, che ha luogo dopo il 1945, non possiamo non rintracciare gli elementi specifici del mondo americano ottocentesco. Dunque, è chiaro che la storia non è solo successione, ci sono dei salti anche nella storia, è inevitabile, comunque naturalmente è assolutamente legittimo che gli autori e curatori abbiano, anche per la grande mole, ma riconosciuto, di lavoro e di pensiero che hanno incluso in quest'opera, abbiano optato per una divisione differente. Anche qui, seconda critica, come nel volume sugli spazi marittimi, mi sarei aspettato un maggior peso dato alla dimensione ambientale, non solo perché la politica dell'ambiente ormai da decenni è integrata nella geografia politica, ma anche perché l'unico saggio che di fatto tratta questo argomento è un saggio che in qualche modo vuole porsi anche in modo critico rispetto a quella che è la teoria mainstream del cambiamento climatico, del riscaldamento terrestre, eccetera, però a mio avviso il modo in cui viene fatto personalmente non mi ha soddisfatto, anche perché sono soprattutto argomenti un po' di tipo procedurale, ecco, se vogliamo, della critica di Pinna al teorema del cambiamento climatico, ovvero, insomma, se qualcuno ha solo annusato un pochino di geografia fisica, sulla teoria dell'effetto Serra c'è poco da contraddire, e qui, cioè, è proprio, sono cose note e sono note da tempi non sospetti, sono cose note da più di un secolo, ecco, quindi questa è certamente una parte che io avrei sviluppato maggiormente e anche perché, tra l'altro, tenuto conto che poi, se vogliamo, lo sviluppo della dimensione ambientale ha radici ottocentesche, Marsh, eccetera, Pinna parte dagli anni 70, che per carità è una scelta molto, anche questa, accettabile, ecco, però poi omette di discutere il peso che ha avuto il governo e l'esercito, cioè i militari americani, nel sostenere e finanziare gli studi sul climate change, fin dagli anni 70 e poi con gli anni 80 il climate change era il secondo programma più finanziato negli Stati Uniti dopo quello sul genoma umano, ecco, e non era un caso che il governo investisse così tanto su questo tipo di studi, perché tutto nasceva dalla preoccupazione dei terreni agricoli che si sarebbero resi disponibili all'Unione Sovietica durante la guerra fredda a causa dell'aumento della temperatura atmosferica. Dunque, ecco, qui a mio avviso c'è un elemento che potrebbe essere più sviluppato e che per giunta ci rinvia a quello che è un altro problema, che troviamo in diversi contributi di questo libro, ma che forse meriterebbe uno sviluppo anche autonomo, proprio come problema, cioè il tema della governance della globalità, perché non possiamo nasconderci di fronte al fatto che abbiamo delle problematiche di natura e di scala globale, dal cambiamento climatico alla pandemia, al problema della riduzione della biodiversità. Ecco, però naturalmente poi ve ne sono altri di natura, diciamo, politico-economica, quindi dalla pace mondiale alle crisi economico-finanziare che si propagano su tutto il globo. Insomma, al nucleare, dunque rispetto a questo tipo di problemi, che sono problemi globali, abbiamo una crisi di governance, perché le organizzazioni internazionali che dovrebbero essere preposte a gestire questo tipo di problemi non sono adeguate, non sono all'altezza, non riescono a farlo e questo la pandemia l'ha messo in luce in maniera evidente. E dunque, a mio avviso, però naturalmente non si può fare tutto e certamente è già stato fatto moltissimo nei 39 capitoli di quest'opera, ma a mio avviso il tema della tensione tra Stato territoriale, dunque geopolitica dello Stato territoriale, e globalizzazione, ecco, su questa tensione non solo si può lavorare, ma questa è una tensione su cui è possibile arrivare a leggere e forse comprendere qualcosa di più dell'epoca in cui ci troviamo a vivere. Ecco, mi fermo qui, perché non credo di aver già sforato. Sì, siamo andati un po' lunghi, ma le considerazioni erano molto interessanti. Io adesso mi astengo dal ribattere, diciamo così, riprendere qualcuno di questi spunti, che però erano notevoli. Prima di passare la parola a Silvia Siniscalchi, che adesso posso ringraziare più direttamente e personalmente per aver accettato di far parte di questo gruppo di discussant dei tre libri. Volevo segnalare agli studenti di Teramo che da quello che possiamo verificare noi la chat funziona, ci sono alcune persone collegate alla chat, probabilmente anche alcuni di voi, quindi l'unico consiglio che posso dare, permettermi di dare, è chiudere, uscire da Teams, chiudere tutto e riprovare a collegarsi. E vedere se così funziona. Non si preoccupi, abbiamo risolto diversamente. D'accordo, l'importante è che però appunto ci possiate comunicare la vostra presenza, perché questo è stato richiesto. Buonasera, io ho provato già a fare che la procedura da lei è indicata, uscire e rientrare, ma mi dice che la chat non è disponibile, quindi non so. La chat è in uso però, è curioso che... Non so come aiutarvi. Buonasera, io ho provato a mandare una mail al momento in cui mi sono collegata e penso di rinviarne un'altra al momento in cui finisco. Ma io ho anche quello. Sto d'accordo, potreste provare a collegarvi utilizzando l'icona DNR che si trova in alto, più o meno al centro delle icone di Teams. Va bene, la ringrazio. Provo. Grazie a voi, scusate, ma non credo che dipenda da noi. Ora chiederei a Silvia Siniscalchi, buonasera, ben trovata di intervenire. Prego Silvia. Sì, grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'invito al professor Cerreti e anche a tutti gli organizzatori collegati. Io, dopo che il professor Nuscarà ha illustrato in maniera anche abbastanza puntuale il contenuto di questi tre volumi e condivido anch'io la necessità di creare un fil rouge, diciamo, all'interno di ciascun volume, ma anche tra i tre volumi. Faccio riferimento soprattutto alle curatelle perché ovviamente all'interno del volume del professor Lizza il fil rouge si crea del solo. Allora, partendo da una domanda, nel senso che appunto mi sono chiesta quale fosse questo filo rosso che legava i tre volumi e la domanda che ricorre in tutti e tre è sostanzialmente legata al che cosa sia la geopolitica e anche al problema del suo mancato riconoscimento come scienza. Non è insegnata all'interno delle università, come ricorda la professoressa Pagnini che scrive un'introduzione, una prefazione, anzi al volume di Lizza, ma ce lo dice anche il vocabolario Treccani che non la definisce una scienza ma la definisce come lo studio di influenze, leggo testualmente, che la collocazione geografica di un popolo, di una nazione, di uno stato ha sulla storia politica. Ora, io mi sono chiesta come mai appunto la geopolitica non sia riconosciuta come scienza, però prima di dare una risposta a questa domanda, sempre anche seguendo un po' quelle che sono le suggestioni o meglio i suggerimenti che mi sono venuti dalla lettura dei tre volumi, vi leggo anche le risposte che hanno dato proprio gli autori, perché Gianfranco Lizza scrive che la geopolitica è l'analisi politica in senso dinamico riferita alla geografia in tutte le sue declinazioni. E in questo la differenza dalla geografia politico-economica che invece avrebbe un aspetto statico, quindi non avrebbe questa dinamicità della geopolitica, dinamicità legata anche un po' al fatto che la geopolitica deve studiare degli eventi che sono anche in essere, quindi che stanno verificandosi e di cui deve delineare le ragioni e anche i successivi sviluppi limitatamente alle possibilità. E poi c'è la definizione che ci dà Edoardo Boria nel suo volume dove nell'introduzione dice che la geopolitica è un'introduzione nel mondo della politica attraverso la chiave spaziale, quindi utilizzando come strumenti d'analisi le modalità fondamentali con cui l'uomo fa esperienza del mondo, cioè lo spazio. Ora, io partendo appunto da queste tre risposte mi sono anche chiesta quale sia poi il fil rouge che lega la geografia alla geopolitica, perché poi la geopolitica è l'unione di due parole, geo che vuol dire terra e politica, però in quel geo implicitamente c'è anche grafia, anche se non è implicito, cioè è implicito ma non è detto perché sennò sarebbe geografia politica. Però io penso che la grafia, cioè il grafi in il disegno in qualche maniera debba essere implicitamente contenuto anche nella geopolitica, non perché debba diventare una disciplina statica, anche se poi su questo ci sarebbe molto da dire, perché in realtà nemmeno la geografia è una disciplina statica, nel senso che da quando è nata la geografia umana l'oggetto dello studio della geografia sono le relazioni tra l'uomo e il suo ambiente, ma poi in chiave sistemica relazioni sempre più complesse, quindi in questo senso la geografia ha una sua dinamicità, però certamente una dinamicità meno legata all'azione, volendo ricalcare un attimo il titolo del libro della curatela ponderosa di Edoardo Boria e Marconi, che appunto dice geopolitica dal pensiero all'azione, che poi mi ha fatto venire in mente anche un po' Giuseppe Mazzini, questa unione, però lasciando da parte ora i richiami alla storia risorgimentale, invece io al di là del termine quindi geo, geo, che appunto penso sia legato anche a un carattere necessariamente descrittivo per poter appunto fondare la scientificità della geopolitica, in che senso? Nel senso che per fare un qualunque tipo di valutazione, un qualunque tipo di contestualizzazione, bisogna necessariamente conoscere lo statu quo di partenza e questo significa studiare lo spazio in ottica sistemica. La difficoltà della geopolitica però è che questo sistema è complesso, è molto complesso, perché è un sistema chiuso interno in sé, chiuso in certi casi, aperto in certi altri, ma di cui bisogna appunto mettere a fuoco le interrelazioni e allo stesso tempo poi bisogna studiare le relazioni che questo sistema ha con gli altri e ovviamente questo non è facile perché bisogna avere una visione anche di insieme che ci costringe continuamente ad un salto di scala, quindi partendo dall'osservazione dell'oggetto geopolitico che noi vogliamo analizzare per poi contestualizzarlo in una serie di relazioni sempre più ampie e che ovviamente richiede grandi conoscenze e competenze. La seconda parola su cui mi sono interrogata è polis, cioè politica, e politica viene fuori appunto dal termine greco polis, città, che in qualche modo mi riporta anche al significato un po' duplice del Mediterraneo così come è stato presentato nel volume di Marconi e Stellari, cioè praticamente il Mediterraneo come unione e come separazione e come appunto punto di cesura e punto di congiunzione e viene presentato anche richiamando Samuel Huntington e la sua teoria delle fratture, delle faglie che ci sono all'interno dei vari contesti geopolitici dopo la fine della guerra fredda perché il termine polis appunto ci riporta al significato di territorio, vale a dire la polis greca era una realtà inclusiva ma solo per chi faceva parte della polis, quindi gli ateniesi erano cittadini e godevano della inclusività della polis e della democraticità della polis e di tutto quello che significava l'organizzazione politica dello spazio anche dal punto di vista della distribuzione equa di questo spazio con il tracciato ipodameo l'isonomia quindi tutto questo riguardava la politica la polis ma non chi non ne facesse parte cioè chi non era ateniese non poteva godere dei benefici della polis e quindi in questo termine è richiamato il concetto di territorio cioè qualche cosa che include dall'altra ed esclude scusate include da un lato ed esclude dall'altro lato bene questo poi diciamo preambolo che sto facendo lo riprenderò poi alla fine del discorso perché mi riporta a quello che ripeto in tutti e tre i libri ho trovato delineato in maniera molto esplicita nel volume di Boria e di Marconi in maniera implicita negli altri anzi nemmeno tanto implicita perché anche nel volume sul mare Marconi e Sellari dicono di voler contribuire non soltanto agli studi sul mare riprendendo appunto ad Alberto Vallega che come ci ha detto già il professore Muscara era stato uno dei più importanti esponenti di questo filone di studi ma anche appunto approfondendo proprio contribuendo avanzi alla costruzione della geopolitica come scienza scienza che secondo me già esiste anche se non è stata riconosciuta e poi alla fine dirò perché allora partendo quindi dai tre volumi senza entrare ovviamente nel dettaglio perché sarebbe impossibile io non farò una disamina puntuale farò diciamo qualche flash partendo appunto da alcuni elementi che ho annotato quindi sulla parte diciamo preliminare questa non mi voglio più soffermare perché ho già detto abbastanza c'è un aspetto del libro del professore Lizza che è quello da cui parto per motivi metodologici non per motivi cronologici perché da programma dovrei parlare prima del libro sul mare ma già che questa non è una curatela lo prendo per primo anche perché è metodologicamente più semplice da esporre proprio perché è una raccolta di studi di un solo autore e segue una sua costruzione di argomentazione che è legata appunto a far vedere i vari ambiti in cui la geopolitica si muove come prima diciamo come primo elemento che il il professor Lizza mette in evidenza c'è innanzitutto il cambiamento demografico quindi l'idea di fondo che lo spopolamento del mondo più ricco più avanzato e la forza invece demografica dei paesi più poveri in crescita sia la premessa per un possibile stravolgimento degli assetti geopolitici attuali che non dureranno a lungo se questi paesi in crescita demografica riusciranno a sovvertire le proprie sorti che poi sono legate fondamentalmente al neocolonialismo e al grande problema che questi paesi subiscono a causa della ricchezza delle loro risorse naturali che vengono depredate dai paesi più forti per quello si parla poi di neocolonialismo dunque il professor Lizza ci dice in sostanza che se i giovani che saranno sempre più abbondanti in questi paesi quando noi invece saremo vecchi cioè saremo oltre i 60 anni se questi giovani riusciranno ad organizzarsi anche in relazione ai giovani dei paesi più sicchi quindi si creerà una rete virtuosa in qualche modo ci potrà essere un sovvertimento di quelle che attualmente sono le nostre comuni vedute dell'assetto geopolitico internazionale che appunto non divide più in maniera netta i paesi del terzo mondo che non sono più definiti in questo modo perché sono tutti quanti entrati in una progressiva crescita stanno tutti quanti nella seconda almeno fase della transizione demografica però non sono ancora nella condizione di poter appunto aspirare a emanciparsi da questo stato di assoggettamento e questo argomento ci no no non ti sentiamo non ti sentiamo ancora dovresti ah il microfono spento Silvia cioè non avete sentito nulla di quello che ho detto no no abbiamo sentito parecchio l'ultimo gli ultimi 30 secondi ah allora ci deve essere un fantasma a casa che mi ha chiuso non lo so va bene no avevo detto adesso non so da dove che dov'è che non si è sentito più comunque avevo detto che partivo metodologicamente dal volume del professore Lizza e non seguivo quindi l'ordine di esposizione previsto dal programma semplicemente per una questione metodologica perché il volume del professor Lizza essendo stato essendo opera di un unico autore ha una sua questione interna e avevo detto questo l'avevamo questo l'avevate sentito era soltanto le ultime battute ok allora il tema del grabbing quindi il tema che apre il volume sul mare di Marconi e Stellari l'ocean grabbing mi riportava alle considerazioni che il professor Lizza esprime nel proprio volume a proposito del neocolonialismo e del fatto che la crescita demografica dei paesi che oggi sono più poveri potrebbe portare ad un sovvertimento qualora i giovani di questi paesi riescano appunto anche attraverso le nuove tecnologie attraverso i legami che possono essere stabiliti con i giovani meno numerosi ma che comunque ci saranno dei paesi più avanzati e più ricchi che appunto riusciranno a sovvertire la propria condizione questo stravolgerà la situazione geopolitica attuale e il grabbing è un punto di connessione perché i paesi cosiddetti neocoloniali sono quei paesi che vengono depredati non c'è soltanto la spoliazione delle risorse legate all'oceano quindi da un punto di vista della fauna ittica ma ci sono le spoliazioni legate appunto alle risorse minerali alle risorse petrolifere ai diamanti e tante altre cose al cobalto cioè tutti elementi che poi vengono utilizzati dalle industrie dalle multinazionali che ovviamente sfruttano queste risorse senza badare poi alle conseguenze sulle popolazioni locali poi c'era un altro elemento che fa da guida al libro del professor Lizza che è ovviamente lo spostamento dell'asse geopolitico che adesso vede la Cina come protagonista che è in grande competizione con gli Stati Uniti d'America e quindi il professore fa una serie di osservazioni molto precise sulle alleanze geo-economiche che si stanno stabilendo a partire dalla Cina che sta penetrando grazie a Prestiti che concede soprattutto in Africa sta facendo questa operazione ma la sta facendo anche nei paesi limitrofi quindi paesi che un tempo facevano parte dell'ottica sovietica facevano parte dell'Unione Sovietica e che adesso invece la Cina sta cercando di attirare a sé ma soprattutto si parla di azioni che hanno a che fare con interessi geo-economici ma che possono diventare poi geo-politici e geo-culturali cioè la predominanza della Cina potrebbe essere anche poi di tipo politico perché ovviamente dal prestito economico che non viene magari saldato perché i paesi non riescono a saldare l'infrastruttura che viene costruita col capitale cinese diventa proprietà della Cina e questo chiaramente consente ai cinesi di penetrare fisicamente nei territori e a questo proposito anche torna il tema del mare quando si parla per l'appunto del mare allargato non soltanto nel senso culturale simbolico ma anche proprio nel senso politico e questo è al centro del saggio di Marconi quando si parla dei cinque mari ma è anche al centro di qualche altro saggio di cui adesso non ricordo l'autore dove però si parla proprio dei cinque mari cioè vale a dire il mar Mediterraneo unito al mar Nero al mar Caspio al mar Rosso e poi al mare diciamo da rabbia quindi sono mari che collegati tra di loro e che presuppongono di nuovo delle alleanze che possono essere però a favore dell'Occidente se l'Europa l'Unione Europea riesce ad intercettare le esigenze dei paesi che attualmente sono preda della Cina mentre invece finiranno nell'orbita cinese se l'Europa che in questo senso viene visto dal professore Lizza come un interlocutore molto importante non riuscirà a portare avanti le proprie politiche nell'ambito di quei paesi che un tempo erano direttamente collegati a noi poi c'è un'altra considerazione interessante e cioè riguarda la lingua io ho pensato a questo riguardo quando c'era l'impero romano il latino era la lingua che veniva parlata da tutti gli abitanti dell'impero e poi avevano anche le proprie lingue ma attualmente la lingua predominante resta l'inglese cioè anche se la Cina sta penetrando negli spazi che un tempo erano gestiti dagli Stati Uniti d'America o anche dall'Europa prima che l'Europa perdesse la propria centralità geopolitica e questo chiaramente ha anche a che fare con la centralità del Mediterraneo che in questo momento però è oggetto di un recupero come ci dicono appunto diversi autori del libro sul mare allora questa lingua l'inglese pur essendoci questa conflittualità in atto tra Cina e Stati Uniti continua ad essere la lingua predominante quindi non c'è una coincidenza in tal caso tra la lingua di uno dei contendenti e la lingua appunto del nemico principale chiamiamolo così anche perché il cinese sarebbe una lingua troppo complessa per poter essere diffusa quindi non ha le caratteristiche che invece una lingua come l'inglese che in questo caso può diventare una sorta di lingua franca ha altri elementi diciamo importanti delle osservazioni che fa il professor Lizza sono legati anche a delle visioni geopolitiche più suggestive possiamo dire più di carattere ermeneutico una di queste che mi ha colpito è quella di Dominique Moisy che praticamente ci dice che le varie aree geopolitiche in cui oggi si può dividere il mondo cioè l'area dell'Occidente l'area asiatica orientale e l'area della Russia e dei paesi arabi possono essere collegate a dei sentimenti a dei sentimenti che però sono esplicativi anche del loro sentire geopolitico cioè del fatto che poi queste iniziative sono anche il frutto non solo di un razionale calcolo delle possibilità degli interessi delle probabilità eccetera ma sono anche il frutto di un'emozione collettiva che i popoli provano al cospetto della propria storia e quindi l'Europa e l'Occidente secondo appunto Moisi sono l'area della paura oggi cioè la paura di perdere le proprie i propri privilegi le proprie posizioni conquistate attraverso le vicende storiche del secolo scorso la Russia invece i paesi arabi sono l'area dell'umiliazione l'umiliazione legata alla fine dell'Unione Sovietica e nel caso dei paesi arabi alla fine dell'impero ottomano e quindi sono animati da una voglia di riconquista di riscatto che in parte viene anche confermata dalle dichiarazioni per lo meno ufficiali che sentiamo fare in televisione oppure che leggiamo sugli articoli di Limes degli ideologi per esempio della Russia lo stesso Putin non fa mistero del fatto di voler ricompattare quell'area di influenza territoriale che un tempo era l'Unione Sovietica e poi c'è l'area dell'Asia che viene vista come l'area il continente della speranza perché appunto è un continente in ascesa economica e ha fatto dei progressi strepitosi ci si riferisce soprattutto alla Cina ma anche all'India e quindi questa è la prospettiva che sta animando questi paesi nella loro ascesa vertiginosa verso la conquista dei mercati mondiali poi vabbè non dico altro anche perché qualche accenno ad Axel e ad Orwell l'ha fatto già anche il professore Muscarat c'è questa visione anche un po' come dire fantascientifica della dittatura dei media della dittatura che oggi è data anche dalla propaganda che viene portata avanti in maniera scientifica da coloro i quali controllano i mezzi di comunicazione e quindi l'Izza fa anche riferimento ai paesi dove la libertà della comunicazione non c'è e sono ovviamente quelli dei blocchi che sono governati da dittature quindi la Russia la Cina la Corea del Nord dove c'è internet ma ovviamente non c'è la libertà della comunicazione e c'è un orientamento di tipo propagandistico legato alla persuasione ma questo poi è un gioco molto più ampio che non riguarda solo i totalitarismi ma riguarda tutti noi come sappiamo e quindi gli algoritmi che in qualche maniera regolano le nostre decisioni i big data con cui i signori così li chiama il professor Lizza i signori delle comunicazioni riescono ad orientare in qualche maniera i nostri comportamenti ed ecco perché c'è il richiamo ad Axel e a Orwell bene per quanto riguarda la geopolitica e gli spazi marittimi quindi di cui ho detto solo qualche cosina è un volume che interessante anche per chi come me non è studiosa di geopolitica di professione è interessante perché io comunque vedo all'interno della geopolitica la stessa evoluzione che in qualche modo c'è stata all'interno della geografia cioè vale a dire un'apertura della geopolitica in senso sociale in senso critico quindi il passaggio da una visione della geopolitica classica a quella di una geopolitica che è stata definita per la precisione da Virginia Mamadou che è una geografa che lavora all'università di Amsterdam è stata articolata questa geopolitica classica in tante direzioni che sono un po' il riflesso della sua evoluzione quindi quella neoclassica che è un po' la geografia che si ritrova soprattutto all'interno di questo volume sul mare perché è quella che si occupa delle mutazioni legate al neocolonialismo e quindi a tutti questi conflitti che si stanno realizzando all'interno delle aree dove appunto c'è la guerra per le risorse e c'è anche la guerra per l'acqua adesso dimenticavo un altro tema importante che viene sollevato dal professore Lizza che ovviamente torna anche qui nella geopolitica del mare e il mare acqua però in quel caso si parlava di acqua potabile quindi la geopolitica neoclassica ma poi c'è anche una non geopolitica una geopolitica sovversiva una geopolitica critica ecco la geopolitica critica che è quella che poi viene nel volume sul mare portata avanti dal contributo di Edoardo Boria ed Elena Dell'Agnese quando parlano delle narrazioni contrastanti del Mediterraneo e anche delle strumentalizzazioni che di queste narrazioni si fanno a livello politico legate al tema dei migranti per esempio ma anche legata poi alla cinematografia alla letteratura ma è un discorso molto articolato nel quale non è possibile entrare in breve tempo mentre invece tutti gli altri contributi che il professore Muscara ha già elencato sono per lo più tutti di geopolitica neoclassica proprio perché entrano nel merito di questioni molto attuali io noto anche che i nostri geografi tendono ad avere una visione più di tipo epistemologico teorico interpretativo mentre invece gli addetti ai lavori come è ovvio che è e quel che sia entrano proprio in dettagli molto molto specifici e quindi i discorsi che fanno rendono evidente quel salto di scala di cui parlavo all'inizio cioè la necessità di avere un punto di osservazione molto vicino alla realtà di cui si parla e contemporaneamente saperlo incanalare in una visione più ampia su questo quindi io non direi altro per non andare forse oltre il tempo che forse ho già superato non lo so e vado al volume appunto di Boria e di Marconi che è quello da cui poi avevo preso spunto per parlare inizialmente della domanda su che cosa sia la geopolitica e allora perché ritorno a questa domanda perché appunto in questo volume al di là di tutta la parte che è stata presentata dal professore Muscarat cioè che ci ha detto per l'appunto come il volume sia strutturato ci sono praticamente 35 autori e 37 contributi è diviso in tre parti la prima parte al di là del titolo è legata ad un'impostazione egemonica ci dice Edoardo Boria nell'introduzione e comprende 12 contributi la seconda parte ne comprende 14 ed è invece impostata su una alternativa cioè una visione alternativa di questa azione e del pensiero geopolitico e invece la terza riguarda l'impostazione separativa cioè i paesi in pratica l'impostazione egemonica riguarda i paesi che esercitano un'egemonia geopolitica quindi quelli che sono più forti gli Stati Uniti la Cina quelli invece che hanno un'impostazione alternativa tendono a opporsi a questa egemonia e quindi sono paesi che stanno cercando di conquistarsi una propria fetta di autonomia sottraendosi a questa egemonia e la guerra in Ucraina ne è un esempio e poi c'è l'impostazione separativa cioè di paesi che cercano di marciare in maniera proprio autonoma uscendo fuori da questi contesti che sono legati appunto alle grandi ai grandi assembramenti possiamo chiamarli così geopolitici per quanto riguarda il metodo di indagine ecco qui c'è un collegamento diretto con la geografia perché a proposito della geopolitica come scienza che per quanto mi riguarda ha un fondamento radicato nella geografia come scienza e quindi il problema è condiviso da entrambe le discipline e quindi la soluzione è condivisa altrettanto il metodo di indagine si dice Boria è il territorio come frutto delle sedimentazioni del passato ma questo metodo di indagine che è un po' quello stratigrafico di cui parlava prima anche il professore Muscarà è lo stesso metodo della geografia storica uno dei metodi della geografia storica quindi io penso come ha detto già il professor Muscarà ma non c'è bisogno di ribadirlo che la storia ovviamente sia fondamentale per la comprensione dei processi geopolitici attuali e questo sempre per la ricostruzione di quel famoso contesto da cui si deve partire per poter poi interpretare in qualche maniera il presente e cercare anche di individuare le evoluzioni future poi ancora l'affermazione iniziale che fa sempre Edoardo è che non si tratta di una storia disciplinare ufficiale infatti anche se il libro in chiave storica si muove perché parte dalla seconda metà dell'ottocento fino ad oggi e anche in questo io ci trovo un legame con la storia della geografia nostra umana di chi come me studia soprattutto quella perché anche la geografia umana si insegna a partire dalla seconda metà dell'ottocento più o meno cioè dalle teorie dell'ambientalismo del possibilismo ed è con Humboldt, Ritter e Ravidal della Blasch che noi facciamo partire lo studio della geografia umana quindi in sostanza anche qui io ci vedo un legame e d'altra parte tra gli autori che hanno fondato la geopolitica ci sono appunto gli stessi autori che si studiano poi nell'ambito del rapporto uomo-ambiente Ratzel è ovviamente il più importante quello che mi viene prima in mente poi leggendo i vari nomi degli autori che hanno fatto parte di questo poderoso volume come ha già detto il professor Muscarat escono i nomi di personaggi che non sono geografi ma sono politici come Kissinger per l'appunto o anche Fukuyama che non è è un filosofo della storia però diciamo è tutto collegato perché ovviamente anche il cambiamento paradigmatico epistemologico della geopolitica si sposa con la visione della fine della storia che poi ancora prima di Fukuyama io ho pensato anche a Spengler il tramonto dell'Occidente quindi la geopolitica critica che in qualche modo spezza quelli che sono gli stilemi interpretativi della geopolitica classica non soltanto a partire dalla fine del concetto di stato nazionale ma anche a partire dalla fine di determinate categorie interpretative che non sono più sufficienti per interpretare tutti gli aspetti di cui la geopolitica si vuole occupare anche se qui sono per l'appunto soprattutto legati anche in questo caso alla geopolitica che io appunto vi ho detto si definirebbe neoclassica e torno quindi alla domanda da qui ero partita per poi chiudere cioè la domanda la geopolitica come scienza allora per quanto riguarda la scienza ovviamente se noi intendiamo per scienza quello che si legge sul vocabolario facciamo un po' fatica a definirci scienziati perché la geografia e anche la geopolitica si muovono comunque sempre a cavallo tra la geografia fisica e la geografia poi politico antropica economica eccetera quindi c'è un zoccolo duro che ci radica nelle scienze dure per l'appunto che è la geografia fisica però io mi sono chiesta un'altra cosa cioè cos'era la scienza prima che ci fosse la rivoluzione quantitativa era la scienza delle arti del trivio e del quadrivio cioè la scienza della grammatica della dialettica e della retorica e poi della geometria dell'aritmetica della musica e dell'astronomia ora se volessi dire in quale di queste rientra la geopolitica se volessimo tornare alle origini della geografia beh la geografia potrebbe collegarsi credo all'astronomia e alla geometria perché i primi geografi erano anche cartografi erano anche astronomi e comunque alla base della geografia c'è ancora la cartografia che è geometria applicata alla superficie terrestre e in questo senso la geopolitica può fare a meno della cartografia direi di no è un punto di riferimento anche per la geopolitica ineludibile perché altrimenti noi non potremmo comprendere quelli che sono gli avvenimenti politici che si svolgono appunto nello spazio e il metodo che applica la geografia qual è? sono il metodo induttivo e il metodo deduttivo quindi si procede conoscendo con i piedi come dicono i maestri andando quindi sul terreno l'oggetto di cui ci si vuole occupare e poi col metodo deduttivo si parte da macro teorie interpretative per cercare di interpretarlo e la geografia la geopolitica scusatemi penso che debba fare la stessa cosa come si vede da questi contributi che partono dalla conoscenza diretta nel senso particolareggiata di singoli problemi politico spaziali per poi cercare di introdurli contestualizzarli all'interno di queste macro teorie interpretative che vedono lo spostamento a livello globale dei centri dei fulcri del potere geopolitico e quindi c'è un altro punto di riferimento e poi per finire quello che Edoardo Boria chiama la cassetta degli attrezzi della geopolitica perché nel volume c'è anche un riferimento a una sorta di non c'è questo collante diciamo forse che avrebbe fatto piacere avere anche per capire meglio in essi però ci sono delle parole chiave che vengono riportate nell'indice che sono preziose perché sono una sorta di mini vocabolario della geopolitica ci sono delle mappe concettuali alla fine del volume con cui si cerca appunto di raggruppare i concetti principali e poi ci sono delle schede iniziali di parole che per la verità mi hanno fatto pensare un po' ai giochi della settimana enigmistica quando bisogna trovare le parole che sono messe insieme a tante altre e quindi se si vedono queste pagine danno un po' quest'idea però comprendo il senso dell'operazione che è anche originale e quindi nella cassetta degli attrezzi della geopolitica Edoardo Borria quali parole inserisce? Inserisce le stesse parole che ci sono nella nostra geografia quindi conflitto che è relazione praticamente la scienza delle relazioni la scala lo spazio che è inteso sia come struttura dell'agire politico sia come strumento per l'analisi geopolitica e anche questo e poi ci sarebbe anche il ciberspazio come vi ho già detto prima a proposito di Lizza c'è il territorio e c'è l'immaginario e anche noi con la geografia della percezione in qualche modo ci muoviamo anche parlando di paesaggio ci muoviamo anche nell'ambito del simbolo e dell'immaginario quindi la mia conclusione è che la geopolitica è già una scienza nella misura in cui appunto si raccorda al presupposto della geografia cioè al fatto che per poter fare un'analisi scientifica bisogna partire da un'analisi di contesto fatta bene però c'è una difficoltà in più che la geografia indubbiamente non ha che è quella della delineazione per l'appunto di linee di tendenza che devono essere comprese per poter capire in che direzione si stia andando operazione come ho già detto all'inizio complessa che certamente non può essere semplificata affidandoci a quello che viene in tv propinato da geopolitici d'occasione che in realtà poi tranne qualcuno non sono tali e che quindi è oggetto di valutazioni e rivalutazioni continue ma anche in questo io ricordando il principio della falsificabilità di Popper posso dire che tutte le teorie scientifiche sono soggette a falsificazione fino a quando appunto non si trova una teoria che le superi e quindi anche in questo senso si può parlare forse di una scientificità più a stretto raggio in senso temporale ma il principio penso che rimanga lo stesso e quindi vi lascio con questa considerazione finale molte grazie Silvio grazie a voi grazie grazie davvero mi devo come al solito impedire di commentare avrei avuto molto piacere di confortarmi con le tue osservazioni e insistere anche un po' nella stessa direzione ma mi astengo anche perché dobbiamo siamo sicuramente andati abbastanza oltre le previsioni per i tempi non fa niente evidentemente c'era materia tra l'altro questo incontro grazie anche alla presenza ma non soltanto grazie alla presenza degli studenti di Teramo è seguitissimo siamo oltre 100 persone tra circa 120 tra presenti in sala e collegati da remoto insomma francamente mi sembra che sia un bel segnale e dicevo devo dare la parola a professor Sommella che anche lui ringrazio sentitamente tanto più che so che si è sentito particolarmente aggravato da uno dei volumi ma in termini di mole intendo spero bene non per i contenuti prego Rosario benvenuto buonasera grazie mi sentite vero? sì ok allora io realmente cercherò di essere breve anche perché è giusto poi lasciare spazio a qualche intervento e anche perché sono in Ateneo e alle 18.30 dovrò per forza andare via perché chiude altrimenti dormo qui allora innanzitutto grazie grazie per avermi tenuto presente per avermi chiamato a parlare di questo tema di questi volumi è un'occasione per leggere per guardare è un onore anche allora innanzitutto è chiaro il compito è difficile Luca Muscarà ha contato le pagine 1200 forse qualcuno in più il compito è difficile anche perché uno dei tre volumi è particolarmente rilevante in termini di numero di pagine di time affrontati quello geopolitica al pensiero dell'azione curato da Bori e Marconi e quindi è un compito complicato io quello che proverò a fare è elencarvi una serie di spunti possibili quelli che sono venuti a me di discussione però innanzitutto una cosa io credo i tre volumi che si rifanno a Lizza, Marconi se l'aria e Boria la prima necessità sia di rendere atto di una cosa la scuola perché è questo di cui parliamo perché i tre volumi fanno capo ad autori che appartengono allo stesso gruppo in qualche caso si ripetono e che appartengono alla scuola quella del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università della Sapienza e secondo me è il caso di rendere atto a una scuola che ha un curriculum notevole nello studio di queste cose nel portare avanti queste problematiche indipendentemente poi dal fatto se siamo o non siamo d'accordo con certe impostazioni e così via di che tipo di spunti cercherò di parlare allora quelli che vengono a me ovviamente significa che rispetto a un tema che secondo me prima cosa che dico la geopolitica non è un tema neutrale probabilmente la scienza non lo è nessun tema poi ne potremmo discutere ma la geopolitica in particolare non lo è quindi ciascuno di noi secondo me non giudica sulla base della propria formazione delle domande che si pone quando tratta questo tema e quando parla di queste cose e delle curiosità che vengono io per esempio vengo da un oramai non sono più tanto giovane ma naturalmente sono giovanissimo io quando mi sono formato nello studio della geografia queste cose non si studiavano perché come dire nel volume curato proprio da Luca John Eggnud scrive bene la rimozione della geopolitica dal dibattito io mi sono formato da fine anni 70 in poi e di queste cose si sapeva che cos'erano ma non se ne parlava è una cosa che poi è venuta dopo dagli anni 90 in poi allora nel leggere queste 1200 pagine secondo me c'è da imparare innanzitutto perché ci sono moltissimi spunti che vengono partirei dal volume di Rizza l'abbiamo fatto in realtà sia Luca sia Silvia sono partiti dal volume di Rizza lo faccio anch'io soprattutto perché il volume di Rizza è quello che si presenta a maniera più aperta per la lettura in un certo senso per certi aspetti in maniera meno specialistica e non voglio sminuirlo in questo ma semplicemente per la caratteristica del volume allora un primo spunto i temi affrontati nel volume del professor Rizza alcuni tradizionalmente vicini alla giografia politica io sono stato mi ricordo quando uscì il manuale quello della UTET di giografia politica di Gianfranco Rizza subito l'ho presi perché i nostri corsi ne avevano bisogno ne fece anche uso nella didattica e ho per esempio la giografia della popolazione che è ovviamente un tema tradizionale o anche i discorsi sulle risorse per esempio però una prima cosa che mi incuriosisce nel libro di Gianfranco Rizza sono il riferimento a una serie di temi secondo me piuttosto innovativi digitale internet il discorso sulla propaganda innovativi e che nella letteratura internazionale possono trovare un corrispettivo per esempio nella parte della critica al geopolitics che si riferisce alla popular geopolitics dove cioè i discorsi della giografia politica vengono decostruiti anche attraverso le rappresentazioni nel mondo dei media ad esempio e il discorso che fa Rizza sulla propaganda rimanda in qualche modo a quelle e questo mi pare uno dei primi temi da mettere in evidenza cioè se parliamo di geopolitica ci avviciniamo vicino a temi di questo genere che vanno un po' al di là di quello che può essere stato inteso tradizionalmente come specifico della giografia questo mi dà l'occasione per dire un'altra cosa allora uno dei problemi che abbiamo quando parliamo di geopolitica è il fatto che la studiano tutti che il termine Matteo Marconi poi nel volume in geopolitica pensi e reazione lo definisce termine passepartout la cosa mi ha incuriosito mi è piaciuta come modo di dire è chiaro tutti parlano di geopolitica tutti sono possibili d'altra parte gli stessi estensioni in particolare Edoardo anni fa condussero un'indagine anche con un video che si trova ancora in rete che è quello su che cosa pensano della geopolitica altri allora dal libro del professor Lizza subito viene fuori il problema dei rapporti con le discipline vicine penso a delle relazioni internazionali o international relations dovremmo dire in linguaggio internazionale genericamente se vogliamo possiamo riferirci alla politica internazionale alla sociologia politica all'economia internazionale questo è un primo tema secondo me un primo spunto di discussione che io mi pongo come geografo qual è lo specifico disciplinare non perché debba per forza rimanere dentro lo steccato della geografia non è questo quello a cui mi riferisco ma qual è l'originalità del contributo che io porto in quanto geografo innanzitutto proprio perché si tratta di un termine paspartout come dice Matteo e quindi lo usano tutti e come poco fa diceva Siv è in televisione ce ne sono tanti di persone che si si professano esperti in geopolitica ovviamente quindi quello sulla geopolitica è un riferimento a un dibattito multidisciplinare questa cosa si ritrova anche negli altri due testi in particolare in quello curato da Bori e Marconi quello più grande se posso usare questo termine e il riferimento a un dibattito multidisciplinare è uno spunto di discussione che secondo me vale la pena di approfondire in che modo con chi in che limiti e sempre qual è lo specifico mi fermo un attimo sul testo del professor Lizza e mi sposto un momento su geopolitica e spazi marittimi allora qui lo spunto che mi innanzitutto libro interessante io personalmente da quest'anno ho preso un insegnamento in geografia politica del Mediterraneo è un libro che mi servirà non lo conoscevo prima l'avevo sentito non avevo avuto il tempo di leggere è stata l'occasione per guardarlo ed è un libro utile da questo punto di vista però un primo problema che mi pongo dentro la possibilità di parlare di terra e mare di geografia politica del Mediterraneo o se volete di geopolitica e spazi marittimi quando sia Marconi sia soprattutto Boria nelle parti conclusive del testo geopolitica pensieri e azione si pongono il problema di un ragionamento più generale che vada oltre i singoli punti di vista presentati nel libro fanno riferimento alla necessità che ha due cose secondo me principalmente uno quali sono i rapporti fra geopolitica e geografia politica ovviamente il legame esiste e secondo me è una delle chiavi da approfondire è uno dei suggerimenti gli spunti di interesse che mi danno queste letture perché se la geopolitica è un passepartout se viene usata da tutti se forse non è esattamente una scienza io non me lo porrei in questi termini il problema la geografia politica invece è una disciplina con una consolidata tradizione secondo me anche la geopolitica lo è secondo me quello che io mi sento di discutere quello che io mi sento di approfondire è questo cioè in che modo tuttora è ovvio è nata dall'albio della geografia politica ma in che modo anche se l'abbia dato un politolo in che modo tuttora le due discipline si legano uno due le scale in particolare scusate se posso sbagliare qualche riferimento spero di no nella conclusione di pensieri azione Edoardo si riferisce alla necessità di lavorare sulla pluralità di scale e allora io mi domando dentro un libro che è soprattutto sul Mediterraneo non solo sul Mediterraneo sono approfonditi anche altri mari interni anzi meglio molto interessanti andare a lavorare anche sull'oceano indiano sul stretto di Malacca e così via ma la gran parte del volume parla di Mediterraneo perché per esempio all'interno di una geopolitica del Mediterraneo non borsa il problema delle città o almeno questo è un'idea un modo di lavorare un modo di studiare che viene a me per la mia formazione probabilmente più debitore della geografia urbana che di altre forme di geografia e in che modo potremmo parlare di una geopolitica delle città ad esempio Luca faceva riferimento all'ambiente ma se pensiamo l'ambiente è un tema ovviamente in termini internazionali oggi parleremo di politica all'ecology in un certo senso l'izza ne parla in chiave di risorse a che scale ci possiamo riferire da questo punto di vista perché se usiamo sul Mediterraneo scusamente la scala dello Stato lo studiamo ma anche no perché come dire comunque vabbè non voglio dilungarmi su questo io mi porrei il problema di che tipo di scale fanno la geografia politica ancora le rappresentazioni è un tema che mi viene utile sul quale mi vengono offerti sia nel testo degli spazi marittimi sia nel testo geopolitica di rappresentazione in molti spunti per esempio il Mediterraneo allargato noi curammo un rapporto annuale della società geografica oramai una vita a fare nel 2005 sull'Italia nel Mediterraneo io non curai nulla lo curava Sergio Conti però io partecipavo con un tema c'era anche il professor Vallega a quell'epoca la parola d'ordine era ancora forse Euro-Mediterraneo Mediterraneo allargato è una denominazione recente di definizione ancora nel dibattito americano si parla di Middle East per esempio nel libro sul Mediterraneo a un certo punto il discorso allargato sull'oceano indiano che è in un certo senso il punto di vista della politica estera americana la base militare di Diego Garcia se non la guarda sulla carta è un modo della politica estera americana di guardare al Medio Oriente e al Mediterraneo con un cono che si allarga fra Mar Rosso e Golfo Persico il discorso delle rappresentazioni delle denominazioni anche se si vuole è secondo me uno spunto forte che viene da queste letture e che mi pare una cosa da approfondire cerco di sempre di essere molto breve allora il testo di Boria e Marconi e qua siamo di fronte a una cosa che non ho alcuna pretesa nemmeno di esaurire gli spunti che vengono dal testo di Gianfrancolizza né dal testo su geopolitica e spazi marittimi ancor meno nell'ambito del testo curato da Edoardo Boria e Matteo Marconi è un testo enorme siamo oltre le 800 pagine con il dichiarato intento di mettere insieme moltissime punti di vista diversi e di non chiudersi dalla geografia peraltro e ancora nel libro sono presenti i punti di vista non europei che è una delle cose che in un certo senso più mi ha interessato non entro nel ragionamento dei singoli contributi perché non avrei il tempo forse non ho neanche la capacità però l'eterogeneità dei punti di vista presentati una delle parti che sono immediatamente andate a guardare dei libri alla fine le biografie degli autori perché era fondamentale per me capire da quali tipi di formazione proveniva i geografi riconoscevano oramai siamo un mondo nel quale ci si conosce abbastanza tutti quanti ma in molti casi non sapevo di chi si trattava e secondo me è stato utile i punti di vista quindi sono molti e qui per esempio Boria si pone correttamente ed è questo uno dei temi che personalmente mi sembrano fra gli punti di discussione più importanti da proporre il discorso della multiscalarità e anche dell'eventuale transscalarità della geopolitica allora però da questo punto di vista secondo me è un dibattito che sta nascendo anche nell'ambito del gruppo AGEI per cui sono un po' influenzato da questo iniziale momento di dibattito che abbiamo avuto l'altra settimana alla Sapienza e allora con quali studi di caso confrontandosi con quali cose io devo dire in questo ho detto all'inizio che la geopolitica non è neutrale quindi secondo me il proprio punto di vista va molto esplicitato quando si tratta di queste cose io ritengo che il nostro interesse per la geopolitica vada legato a una questione disciplinare che attiene alla geografia politica naturalmente la maggior parte delle domande che ci vengono poste in questo periodo riguarda la guerra in Ucraina un amico per scherzo se le fa mi domandava che vinceva la guerra ma naturalmente mi prendeva in giro ma mi prendeva in giro soprattutto perché io non sono in grado di rispondere perché nessuno di noi lo è perché trattare di geopolitica nel tentativo di stare sulla contemporaneità secondo me non è il modo nel quale noi dobbiamo affrontare questi temi ma ce lo dobbiamo porre in quanto metodologie come correttamente fanno questi autori peraltro nell'ambito di quello che hanno descritto torno un attimo sulla geopolitica termine passepartout qua secondo me vale la pena visto che siamo fra geografi anche se agli studenti di Teramo questa cosa può interessare meno perché ovviamente non è lo specifico disciplinare quello che le riguarda ma piuttosto il tema in generale e quindi mi scuso per questo motivo c'è un dato i temi della geografia in generale della geografia politica in particolare e della geopolitica ancora più in particolare non li trattiamo solo noi ma non li trattiamo solo noi anche perché si tratta di temi particolarmente importanti di notevole importanza e all'interno della cultura occidentale e all'interno del sapere in generale e all'interno di quello che succede quotidianamente e noi sappiamo come in continuazione ci capiti questo allora se trattiamo della parola confine se trattiamo di rappresentazione se trattiamo di città sono tutte cose che studiano anche altri e allora visto che noi geografi siamo abituati a non chiuderci in che modo affrontiamo questi ragionamenti e qual è lo specifico che portiamo su questo la cassetta e gli attrezzi di Boria secondo me dà molte risposte nella parte conclusiva di Marconi io ci trovo molti problemi proposti e proposti bene voglio dire con dei ragionamenti all'altezza nella cassetta degli attrezzi conclusiva geopolitica al pensiero all'azione per intenderci secondo me non è un libro che si può leggere per intero è chiaro che ti soffermi sui paragrafi che ti piacciono di più ti interessano di più sono tutti peraltro dimensioni contenute è leggibile da questo punto di vista ti soffermi su quello che ti interessa secondo me quello che va letto soprattutto sono gli ultimi due pezzi quello di Marconi e quello di Boria perché nella cassetta degli attrezzi di Boria ci sono molte riflessioni che Edoardo Boria fa dal suo punto di vista su quello che può essere lo specifico della metodologia di una scienza spaziale perché la geopolitica lo è sicuramente Boria la definisce così almeno penso di poter generalizzare in questa maniera non voglio fargli torto e di che cosa significa contesto che cosa significa ambiente che cosa significa territorio dentro quei ragionamenti e secondo me dà una traccia importante su come lavorare su queste cose poi ripeto le formazioni dalle quali proveniamo il modo di lavorare anche i contatti che quotidianamente abbiamo con le altre discipline per esempio da questo punto di vista l'esperienza comuna alcuni di noi lo stare e credo che gli studi di Teramo se ho capito bene provengono da un corso di una scienze politica o almeno mi pare che Bernardo insegnasse in un corso di una scienze politica significa un confronto costante con altre discipline può significare su alcuni temi confronto con chi ne sa più di te su determinati temi perché se parli di organizzazioni internazionali ti devi confrontare con persone che studi nel diritto internazionale forse ne sanno più di te e così via da questo punto di vista secondo me e non è una cosa che viene fuori mo' ma in realtà è da dopo la seconda guerra mondiale per esempio il confronto con quella che in italiano chiamiamo politica internazionale e che in linguaggio in inglese si dice international relations come disciplina di studio è un confronto fondamentale quindi specifico e capacità di confrontarsi con gli altri questo è secondo me uno spunto di discussione forte che viene dalla lettura di questi libri credo di essere stato nei 20 minuti e quindi a meno di guardare qualche altra cosa sugli appuntini che ciò mi fermerei qui in modo da lasciare un po' di spazio a quello che volete grazie 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 anche in tempo ad ascoltare come mi auguro che sarà qualche intervento qui dalla sala o dai collegati pur tenendo presente il fatto che anche se insomma non è l'Ateneo non è l'Università Orientale che chiude le porte alle 6 e mezza ma anche la Società Geografica a un certo punto dovrebbe chiudere e siamo arrivati praticamente alle 18 questo è soltanto un così un mettere le mani avanti e non vuole essere un bloccare la discussione prima ancora che cominci io avrei una serie di considerazione da fare se permettete le faccio alcune così rapidamente mi è piaciuto molto fin da principio l'accenno che ha fatto Luca Muscarama che è stato ripreso da Silvia Siniscalchi anche a proposito del forte componente prendendo spunto entrambi del libro di Gianfranco Lizza ma comunque poi allargando il discorso in generale la forte componente per così dire narrativa tra virgolette ma insomma anche senza virgolette che caratterizza dovrebbe caratterizzare quello che non per nulla siamo abituati a definire ormai discorso geografico prima ancora che disciplina che scienza che discorso geografico in quanto discorso è un qualcosa che ha a che vedere con la narrazione ma è sempre stato così peraltro la novità semplicemente la novità sta nel fatto di prenderne atto e di considerarlo anche un aspetto positivo magari un elemento di forza rispetto ad altre ad altre discipline ad altri modi di proporre rappresentazioni interpretazioni del mondo mi sono piaciute interessate molto alcuni riferimenti sempre da Luca il fatto per esempio che poco ci sia ancora a proposito di una geopolitica per così dire ambientale dei problemi ambientali qualcosa c'è evidentemente anche in questi libri intendo e se ne parla anche in altre sedi però probabilmente questo è un punto che andrebbe preso di petto approfondito un po' più in maniera più sistematica così come e qui ci sono invece molti spunti nel libro di Gianfrancolizza gli attori non statali oggi la geopolitica ma chi la fa ma la fa davvero gli stati quanta parte dell'azione internazionale e quindi con risvolti propriamente geopolitici o geografico politici a seconda di come si vuole considerare gli aspetti provengono da movimenti internazionali che spesso e volentieri sono stati poi diciamo così fagocitati egemonizzati da qualche attore anche statale ma che nascono e sono nati pensate alle primavere arabe pensate al movimento che ne so dei venerdì verdi o Greta questa roba è cominciata sicuramente in maniera spontanea e ha orientato sicuramente delle scelte politiche magari di facciata tutte di facciata sono perfettamente io sono di questa idea che si sia adattato di operazioni di facciata giusto col tanto che serviva per recuperare la quota di dissenso incalanarla e così via però sa di fatto che hanno orientato le politiche nazionali e interstatali in maniera molto forte molto assistente insomma ci sono un sacco di temi e mi è piaciuto infine la sottolineatura che invece ha fatto in particolare Rosario Sommella a proposito della dico unità perché è brutto ma coerenza in qualche maniera della scuola di provenienza degli autori dei libri di cui abbiamo parlato oggi meno male si è trattato di un gruppo si tratta di un gruppo ma insomma cronologicamente c'è stata un'evoluzione che ha avuto indubbiamente una sua coerenza operativa e è interessante anche vedere poi come si sia progressivamente differenziata l'appartenenza a questa scuola dirigendosi verso dei filoni delle analisi più individuali più distanti relativamente distanti da quelle dei degli altri partecipi della scuola i temi sono tanti abbiamo assistito oggi pomeriggio grazie a questi interventi dei tre dei tre relatori a uno spinternamento di temi di possibili necessari approfondimenti e punti di discussione veramente notevole secondo me notevole molto impressionante e ripeto che non mi stupisce per tanti motivi ma mi auguro che abbia colpito e convinto dell'interesse di queste operazioni chi ha seguito l'incontro tanto che io mi domando se anche a proposito di provenienza da una scuola comune intendo da un gruppo coeso inizialmente compatto e non sia pensabile la butto lì offrendo la disponibilità della sede ma non più che tanto perché io non sono uno che si occupa di geopolitiche se non sia pensabile un incontro di studio specificamente orientato a un quadro della situazione degli studi geopolitici in Italia e anche fuori in Italia ma insomma intanto partiamo perlomeno dall'Italia attualmente oggi perché diciamo oggi non è questa la sede mi auguro che venga qualche domanda che ci sia qualche intervento anche dal pubblico però per questione di carattere strutturale di tempo non è questa la sede per avviare una discussione sulla quantità di punti che sono stati sollevati e che altri che potrebbero essere sollevati però secondo me è una discussione ben matura ecco sarebbe veramente il caso di organizzarla in maniera strutturata pensateci voi che fate parte della scuola ora io mi fermo se ci sono da casa c'è una mano alzata da casa non so chi si brussa si salve non so se mi vedete no ma la sentiamo prego adesso la vediamo anche salve io ho apprezzato tantissimo tutti e tre gli interventi mi ha applicato una considerazione quando si è parlato anche della questione tra la globalizzazione e lo spazio territoriale e per poi non aggiungerci la questione della retorica nazionale può essere questo un punto di forza della geopolitica come diciamo scienza come si è cercato tante volte di dire che manca da parte di altri sembra mancare un riconoscimento scientifico da parte della geopolitica la qualità di riuscire ad a a a a verificare le questioni che sia che lo Stato nazionale o che altre organizzazioni o che la globalizzazione come una sorta di mito riescono a a produrre non so se non so se se mi sono spiegato cioè se se è una sorta di se può essere una sorta di scienza che riesce a a a normare e a parlare in modo in modo chiaro delle questioni che vanno al di là dello Stato nazione e che non che non si comprendono bene tra quali sono i suoi confini dello Stato nazione o quali sono i suoi confini a livello continentale o a livello mondiale parlo anche della questione ambientale delle questioni economiche non so se la mia domanda è stata capita spero di sì forse grazie è certamente una sfida la domanda che poni come è stato detto prima da Claudio Cerreti nel sia nel volume di Lizza sia negli altri volumi l'aspetto degli attori non statuali è ben preso in considerazione se la geopolitica classica quella diciamo fino al 1945 per capirci era dominata da questa dimensione territoriale che si coniugava poi con i nazionalismi eccetera è evidente che la geopolitica contemporanea non può esaurirsi nello Stato perché lo Stato la pandemia lo ha mostrato benissimo non è all'altezza delle sfide della contemporaneità nessuno Stato di fatto forse qualcuno meglio di altri ma in generale i sistemi sanitari sono collassati in tutti gli Stati grosso modo e dunque e peraltro pure l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata all'altezza della sfida evidentemente non era prevista non eravamo attrezzati o preparati ma questo è solo uno degli esempi che mostra come con la globalizzazione oggi si pongano problemi tra l'altro è bellissimo il saggio di Sellari su Paranchenna e la connettività che parla proprio di questa dimensione ecco e di fare i conti appunto con i limiti dello Stato nazionale che poi non dimentichiamo alla fine restiamo con un problema di governance perché se lo Stato non ci arriva però non abbiamo neppure un'autorità globale in grado di affrontare questi problemi questi problemi ricadono sui cittadini perché lo Stato doveva fornire la sicurezza ai cittadini e non riesce a farlo scusi posso aggiungere solo una cosa sì prego rapidamente scusate mi pensi se prendo troppo spazio e io volevo solo appunto riferirmi a se la geopolitica era appunto una forma di conoscenza che possiamo utilizzare per superare l'incapacità dello Stato di riuscire a gestire le questioni mondiali sì certo e mi sembra che la risposta del professor Muschera andasse esattamente in questo senso salvo il fatto che io mi permetto così di graduare la risposta nel concreto la maggior parte delle letture sedicenti geopolitiche continuano a essere delle letture interstatali è proprio quello che stavo cercando di sottolineare prima occorrerebbe molta maggiore attenzione per gli attori non statuali quelli cosiddetti degli organismi internazionali e quelli per esempio dei movimenti ma anche quelli per esempio delle grandi imprese Amazon influenza o non influenza scelte geopolitiche sì TikTok Instagram contano sì ce l'ha fatto ce lo mostra Lizza nel suo libro qui siamo al di là del tutto al di là della Stata Nazione no? per esempio che non hanno a che vedere quegli Stati Nazioni anche se ma comunque insomma la risposta è sì salvo il fatto che bisognerà trovare sicuramente non tanto degli strumenti quanto delle modalità di analisi perché poi moltissimi di questi fenomeni di cui stiamo parlando sono estremamente sfuggenti visci discivolosi non esistono dati pubblici ufficiali su cui far leva già i dati che provengono dalle agenzie statali o internazionali tipo Nazioni Unite sono sempre da prendere ovviamente con le molle e con beneficio di inventario nessuno veramente nessuno ci può garantire che ci dicano il vero comunque non fosse altro dietro c'è una responsabilità politica forte ma sui dati delle aziende chi ci garantisce la veridicità la validità quindi rimane complicato ci sono altri interventi volete intervenire voi coordinatori giurate di essere rapidi professor una replica sintetica ma non necessariamente una replica perché è una replica una replica no perché è una replica io un ringraziamento un ringraziamento alla teleografica un ringraziamento ai relatori perché si sono subbarcati in un lavoro notevole e gli spunti critici che ci hanno fornito sono molti qualcuno ha contato 1200 pagine qualcun altro ha detto anche di più io porto una responsabilità se questa è l'ammontare beh forse Matteo Marconi ce n'è ancora di più perché lui ne ha ne ha curati due quindi ancora di più ringrazio Rosario Sommella perché ha fatto notare che come anche Claudio Cerretti ha fatto notare che è la produzione di una stanza qualcuno l'ha chiamato a scuola è una parola grossa ma insomma di scienze politiche sapienza e tra l'altro chi ha coordinato questo incontro ci ha passato un po' di tempo in quella stanza molti anni anche e lo ringrazio per la sollecitazione a un incontro sullo stato dell'arte degli studi geografico politici in Italia molto rapidamente Luca Muscarazzo sottolineava che questo non è un libro di storia e lui il suo amore per la storia non gli ha fatto mandar giù bene questa espressione cosa intendevamo dire con questo non è un libro di storia perché è un libro che mette al centro non il tempo ma lo spazio e per questo non può essere un libro di storia non va concepito così non è certamente un libro di storia del mondo di storia degli Stati Un'America di storia di qualcosa ma è un libro che fornisce degli spunti ad una storia disciplinare una storia disciplinare cos'è una storia disciplinare? questa è una domanda che nei tre anni di lavoro su questo libro mi sono fatto chissà quante volte una storia disciplinare non deve pretendere che tutti i praticanti si riconoscano in metodologie comuni approcci condivisi magari addirittura valori politici o etici quando si parla di geopolitica ma basta che ci sia un tema comune il dialogo ha interrogativi comuni come diceva Teradawi siamo una comunità perché abbiamo gli stessi problemi mi piace molto questa espressione qui il tema comune è ovviamente le relazioni di potere ma come diceva Rosario Sommella le relazioni di potere non le studiano solamente i geografi politici le studiano anche altri è l'interrogativo comune che ci rende distintivi rispetto agli altri e cioè l'interrogativo che al fondo è come interagiscono i poteri con quella dimensione esistenziale con cui si confrontano che è lo spazio come si manifestano spazialmente come elaborano strategie dentro uno spazio per sfruttarlo per ottimizzare questa loro condizione esistenziale ecco la prima cosa come dicevo la trattano anche altri la seconda no la seconda la trattiamo solo noi è qui che sta la distintività e quando riprendendo la frase di Teradawi siamo una comunità perché abbiamo gli stessi problemi non mi riferisco ai problemi come dire di tipo corporativo anche quelli sono i medesimi ma mi riferisco a problemi scientifici cioè interrogativi scientifici è su questi che troviamo una condivisione quando concepimo pensiero azione Matteo Marconi ed io scorgevamo interrogativi comuni in un panorama di personaggi presenti nel testo che sono effettivamente molto molto teologeni la storia della geopolitica non è una storia lineare è una storia fatta di pause e ripartenze fatta di contributi molteplici che vengono da paesi diversi scuole diverse tempi diversi è una storia ricca ricchissima ma estremamente frammentata ho preso tanti tanti appunti su temi che non posso assolutamente toccare ma che rimarranno priorità del gruppo già sulla geopolitica cito la governance globale ne ha parlato Luca Muscarà la natura scientifica della geopolitica Silvia Siniscalchi le aspettative predictive sempre Silvia su cui anche Rosario scherzava poi Rosario Sommella i rapporti tra geopolitica e geografia politica ancora Rosario Sommella quali scale per la geografia politica Rosario Sommella tutti i temi che accompagneranno lo sviluppo di un gruppo già sulla geopolitica che nasce per rispondere o per provare a dare risposte quanto più possibili comuni a questi temi un'ultimissima parola io però lasciatevi dedicarla a Gianfranco Lizza perché credo che che vale per questo ultimo libro ma vale in generale io credo che a lui vada riconosciuta molto più che agli altri curatori di questi libri una forte fortissima carica innovativa direi il coraggio di lanciarsi su temi nuovi anche temi controversi quindi una certa temerarietà anche che non comune soprattutto in un ambiente che diciamo c'era abbastanza conformista come quello come l'ambiente accademico quindi il coraggio di osare secondo me è un tratto tipico di tutta la sua produzione io non posso dimenticare che uno dei corsi che ho insegnato in questi ultimi anni e che si chiama geopolitica è stato voluto da lui e mi piace credere che la proposta che insieme abbiamo fatto al nostro dipartimento di sdoppiare questo corso in due corsi uno di teoria e storia della geopolitica e un altro di metodologia per l'analisi geopolitica mi piace credere poi magari me lo dirà che questa scelta sarebbe stata condivisa anche da lui che non abbiamo interpellato in realtà è stata la nostra iniziativa ma ora lei confermerà che le piace perché se no non facciamo brutta figura e si va a perdere quell'idea di scuola di cui abbiamo parlato finora però credo che in fondo la arrivo a dire forse un po' roboante come frase ma la lezione più grande è proprio questa la sua lezione più grande cioè che la scienza non sta ferma deve continuamente innovarsi continuamente darsi degli obiettivi e lanciarsi in sfide nuove senza il suo coraggio di osare 30 anni fa su questi temi che ancora oggi 30 anni dopo appaiono a molti di frontiera 30 anni dopo voi immaginate 30 anni fa senza il suo coraggio di osare credo che parlo per me almeno non voglio coinvolgere gli altri colleghi della stanza ma io non starei a dire e a scrivere le cose che dico scrive oggi quindi grazie professor Liz Edoardo pare pare probabile anche a me pare probabile anche a me Mercuri dove va non vorrei mica parlare due volte no parliamo insieme visto che non è che non è la scusa che ma noi saremo almeno io sarò brevissimo oltre a ringraziare chi ha presentato questi tre volumi quindi Silvia Rosario e Luca volevo ringraziare ovviamente i presenti volevo ringraziare tutti gli autori di queste opere oltre al professor Lizza che è autore unico del suo libro ma i numerosi contributori agli altri due è stata sottolineata l'eterogeneità anche della provenienza del libro sugli spazi marittimi d'altra parte quando pensiamo al mare dobbiamo pensare questo ce lo diceva forse il maestro della geografia del mare che abbiamo avuto è stato nominato più volte che ad Alberto Vallega forse non abbastanza valorizzato e ricordato anzi il nostro compito con Stefano Soriani stiamo lavorando a un'iniziativa proprio in ricordo degli studi di Alberto Vallega ecco Alberto Vallega ci diceva che il mare è un sistema che attiva un sistema di relazioni e nel nostro libro diciamo che abbiamo curato io e Matteo queste relazioni che sono relazioni di potere sono centrali nell'analisi ecco soprattutto del Mediterraneo ma non soltanto del Mediterraneo è un come diceva prima Edoardo ci siamo posti degli interrogativi abbiamo cercato di evidenziare alcuni temi coinvolgendo altre discipline altri colleghi di altre discipline ma gli interrogativi alla fine erano gli stessi come si esplica come interagiscono i poteri negli spazi marittimi questo è un po' il il filo conduttore di un libro ecco che sembra l'eterogeneo ma ha un'idea molto forte di partenza ecco dei temi che sembrano a volte anche disuniti frammentati è vero il Mediterraneo è il core del nostro volume ma sono temi comunque uniti da un elemento unico che è l'acqua e l'acqua che magari ce lo dirà adesso il il pronipote di Carl Schmitt Matteo Marconi è deve essere sempre vista nell'evoluzione geopolitica del mondo contemporaneo come un tutt'uno con la terra non ci dimentichiamo in uno spazio questo ce lo ricordano in molti ce l'ha ricordato anche Vallega di 60 km dalle coste marittime via il 75% forse oggi ancora di più della popolazione mondiale volevo semplicemente però rispondere a una sollecitazione di Rosario Sommella quando ha trovato una criticità nel volume da noi curato sulla mancanza dell'elemento urbano è vero però lo diciamo all'inizio dell'introduzione è un è un laboratorio aperto questo questo volume nasce come invito alla comunità dei geografi e non solo dei geografi a parlare di mare e quindi l'orizzonte marittimo che domina probabilmente era anche più funzionale a darci delle risposte sulla domanda che ho fatto all'inizio cioè su come i poteri agiscono negli spazi marittimi per questo ci siamo occupati prevalentemente di quello che Vallega chiamava orizzonte marittimo e poco dell'orizzonte terrestre che è rappresentato in primis dalla città e dai retroterra delle città quindi grazie comunque Rosario per averlo sottolineato e ci auguriamo che nella prossima diciamo in prossimi lavori o nella prossima edizione questo tema delle città sarà sicuramente sviluppato mi unisco ovviamente a Edoardo Boria nei ringraziamenti al professor Lizza che abbracceremo poi dopo l'incontro grazie grazie Paolo Marconi ha facoltà di parlare un minuto ah benissimo molto più di quanto pensavo grazie grazie beh certo se caro professor Lizza se la vita fosse una scommessa per dirla con Pascal io credo che oggi questa sia la dimostrazione che la sua scommessa che fece ormai 30 anni fa sulla geopolitica è stata vinta insomma mi sembra oggi ci sia stata in un qualche modo un riconoscimento pubblico a quella che all'epoca era effettivamente un'incredibile scommessa nessuno faceva geopolitica in Italia se non qualcuno a Trieste e dunque non era non era banale non era scontato all'interno di quel contesto ringrazio certamente anche i relatori che oggi si sono sobbarcati con tanti contenuti il compito di relazionare su questi tre libri con una serie di riflessioni interessanti io giusto per dare come dire soddisfazione allo sforzo che hanno fatto faccio giusto così due brevissimi veramente istantanei commenti uno mi intrigava il diciamo la riflessione che faceva Silvia Siniscalchi sulla necessità di inquadrare l'opportunità l'occasione di inquadrare la geopolitica come scienza all'interno della scienza geografica e questa opportunità viene appunto dal pensare la geografia come scienza delle relazioni e mi intrigava la connessione che lei faceva sotto questo punto di vista con la geopolitica è che in fondo il conflitto è una modalità della relazione io credo che questo sia anche un po' lo specifico se da una parte questo diciamo incardina la geopolitica all'interno della geografia è anche un po' il suo specifico ossia si occupa anche la geopolitica scienza delle relazioni si occupa di una tipologia specifica di relazione che appunto è la relazione conflittuale non solo di quella naturalmente ma come dire sicuramente rispetto alla geografia può avere questa sua specializzazione diciamo e un'ultima battuta su quanto sia diversi tutti i relatori richiamavano sul problema sul rapporto tra storia e geopolitica storia e spazio scusatemi dimensione temporale dimensione spaziale e diciamo ha attirato l'attenzione questo provocatorio volutamente provocatorio titolo dell'introduzione appunto questo non è un libro di storia ma questo non è un libro di storia in realtà se insomma se l'intento fosse stato quello di essere accademicamente precisi la precisazione dove sarebbe suonata grosso modo così questo non è un libro di storia tra virgolette di storia positivista cioè nel senso che quel problema che c'è con la storia è un problema con la storia positivista ossia con la storia che ragiona nei termini di successione cioè del prima che spiega il dopo ecco questo è un modo di ragionare che certamente annichilisce la dimensione spaziale piuttosto però questo diciamo in un qualche modo non è che elimina la dimensione temporale e l'interesse per la dimensione storica perché chiaramente noi ci occupiamo di storia c'è un'attenzione alla storia il problema magari con un certo modo di fare la storia ma non che questo naturalmente debba esaurire la dimensione storica detto questo e fatte queste considerazioni vi ringrazio grazie Matteo e a questo punto invito Gianfranco Lizza mentre ricordo approfitto degli studenti di Teramo quelli che perlomeno saranno in grado di farlo di indicare nuovamente il loro nome e cognome e matricola ora in conclusione dei lavori grazie prego innanzitutto grazie alla società giocattica italiana grazie ai relatori Rosario Sonnella Rita Siniscalchi l'amico Luca Muscara e le loro relazioni non è colpa mia se voi avete letto 1200 pagine perché io non ho scritte soltanto 160 io sono del parere che i libri devono essere corti devono essere smart perché agli studenti bisogna dare semplicemente il là bisogna invogliarli a studiare bisogna invogliarli interessarli bisogna semplicemente dargli questa spinta poi tutto il resto solo lo fa da soli ciascuno di noi si fa poi la cultura da solo io sono oggi particolarmente felice per due motivi primo perché siedo con i miei ex allievi qui oggi oggi sono tutti docenti affermati noti e bravi e quindi sono particolarmente contento e poi sono contento perché loro hanno raccolto il testimone cioè quell'eredità che io ho ricevuto dal mio amato maestro che è stato il fondatore della geopolitica in Italia Ernesto Massi io l'ho ricevuta da lui l'ho filtrata e l'ho passata a loro e loro oggi scrivono questi bellissimi testi passavo delle ore col mio maestro a parlare della geopolitica di come lui aveva impostato la prima rivista di geopolitica negli anni 30 come poi l'ha vissuta nel dopoguerra quindi potete immaginare che bagaglio meraviglioso che mi sono creato un bagaglio tradizionale un bagaglio che io poi ho trasmesso ai miei studenti fino a un certo periodo della mia carriera in forma tradizionale ho insegnato a scienze economiche ho insegnato a statistica e poi sono finito a insegnare gli ultimi vent'anni a scienze politiche non c'è dubbio che questo passaggio mi ha aiutato molto perché prima parlavo soprattutto di economia poi le cifre le statistiche i sistemi quantitativi mi hanno aiutato a impostare un certo tipo di discorso quantitativo poi sono passato alla politica vera e propria e lì ho fatto la fusione il discorso che oggi faccio con questo libro è un discorso completamente nuovo cioè io cerco di far uscire la geopolitica dai suoi schemi tradizionali direi le sue dinamiche i suoi obiettivi fisici poi rappresentati anche cartograficamente per portarla su un altro piano il piano che mi sembra oggi particolarmente interessante per i tempi che viviamo cioè una società fortemente condizionata dai mass media dai social e quindi una società dove i popoli la psicologia dei popoli è particolarmente interessante per il geopolitico per capire dove va quella nazione come si è formata come quella nazione può reagire nei confronti dei nemici interni o esterni la prima legge della geopolitica qual è? è quella di dire prima di tutto conosci te stesso poi devi conoscere il nemico se è questo lo sai già hai buona chance se conosci te stesso ma non conosci il nemico hai poche chance se tu non conosci te stesso e manco conosci il nemico è meglio che non ci provi ecco queste dinamiche dal punto di vista della manipolazione dei cervelli sono importantissime è questo che a mio avviso sta cambiando sotto i nostri piedi viviamo in un mondo dove oggi i dati che ci vengono raccolti dai social i che vengono raccolti dai media sono una marea infinita prima i dati venivano raccolti dall'espionaggio dall'intelligenza ed era intelligence ed era rischioso e costosissimo oggi non costa niente è gratuito perché questi dati sono una montagna di dati elaborarli ecco l'analista geopolitico interpretarli significa capire dove va una certa nazione dove va uno stato la Cina la quale io sono stato diverse volte è un paese che si muove molto abilmente molto abilmente ha indubbiamente diverse chance e si muove da stratega perché una cosa è la strategia che si spoglia del presente e guarda solo verso il futuro una cosa è la tattica tipica dei militari che evidentemente utilizzano i mezzi di cui hanno e di cui rispongono solo nel presente loro lavoro non è presente non guardano e lo stratega che guarda il futuro e lo stratega con questi dati che oggi vengono forniti dai social può fare delle interpretazioni delle analisi importantissime e questo è sicuramente un fatto che a mio avviso cambia la geopolitica del passato quella geopolitica tradizionale che insegnava il mio maestro con le linee che si avanzano e c'erano i carri armati e c'erano tutta una serie di militari che si muovono per me è finita questa guerra è un rigurgito delle peggiori per geopolitica del novecento rigurgito perché non ha senso per me è stupida non ha senso perché le guerre non si devono fare con i cannoni le guerre ormai si faranno con la manipolazione dei cervelli è lì che si arriva a vincere e chi avrà la tecnologia più sofisticata chi avrà l'intelligenza artificiale più sofisticata chi riuscirà a manipolare e guardate già siamo manipolati ma in tutti in tutti i momenti arrivano messaggi da tutte le parti dai giornali dai televisioni dai cinema dai smor dai telefonini è un continuo quei messaggi che lavorano piano 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 le masse le masse sono ignoranti le masse non studiano le masse non analizzano le masse non interpretano le masse bevono mangiano e fanno quello che diviene poi in un certo senso detto di fare il condizionamento e questo è il concetto che a mio avviso muoverà la geopolitica del futuro perché tanto saremo ovviamente siamo già 8 miliardi probabilmente alla fine del secolo sarebbero più di 10 miliardi dov'è che si muoveranno soprattutto si muoveranno dove ci sono i giovani sono i stati che fanno la guerra sono i stati giovani non sono i stati vecchi chiaro allora è evidente dove ci sono i giovani i giovani sono maggiormente manipolabili perché leggono stanno sempre con i cosi con i cellulari televisioni eccetera l'anziano molto di meno quindi ecco che quello è un discorso che secondo me muove pensate a questa gente che sta in Africa o in Asia o in America Latina che sono tutte queste masse di giovani questi avranno domani un potere nelle mani che i paesi vecchi come noi europei che siamo in piedi inverno demografico in decadenza e anche anche gli Stati Uniti stanno cercando stanno se non se non integrano la popolazione con le con le con gli immigrati che poi assimilano non integrano eh attenzione assimilano non saranno più una potenza egemone quindi guardare al futuro bisogna guardare con un'ottica diversa che non è più quella del cannone ma è un'ottica dei mass media è l'ottica del condizionamento del cervello che avviene attraverso le tecniche comunicative di cui oggi noi oggi disponiamo ecco il senso del mio libro ecco quello che secondo me hanno raccolto i miei i miei ragazzi che oggi ormai sono professori che ringrazio anche per le belle le parole che tu Edoardo hai detto e ringrazio tutti voi grazie grazie per questa conclusione e finisce per essere una bella sintesi un bello stimolo ad approfondire e proseguire i lavori io credo che a questo punto sono le 18.30 abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare credo forse anche qualcosa di più e vi ringrazio molto per essere stati con noi per aver eseguito con attenzione partecipazione ringrazio anche i molti che hanno seguito da casa e che ora si stanno via via scollegando e vi saluto alla prossima grazie 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 a tutti